prepariamo insieme gli involtini di melanzane al forno ricetta facile veloce e forse anche light prepariamo innanzitutto la passata di pomodoro quindi olio e aglio in pentola aggiungiamo la passata di pomodoro aggiustiamo di sale aggiungiamo il basilico e portiamo a cottura per circa mezz'ora affettiamo le melanzane ad uno spessore di circa mezzo centimetro potete anche pelare le melanzane a me piace la buccia e quindi l'ho lasciata trasferite le melanzane su una teglia ricoperta di carta forno aggiungete un filo d'olio e distribuitelo su tutta la superficie con un pennellino aggiustate di sale e pepe cuocete le melanzane in forno caldo a 180 gradi per circa 15 minuti fino a quando non risulteranno morbide così affettate la mozzarella a fior di latte farcite le fette di melanzane con la mozzarella tagliata in questo momento potreste aggiungere della mortadella del prosciutto cotto oppure sostituire la mozzarella con un formaggio filante di vostro gradimento quindi formate tutti gli involtini e tenete da parte aggiungete la passata di pomodoro sulla base della teglia e sistemate gli involtini uno accanto all'altro ricoprite con il formaggio grattugiato va bene sia il pecorino che il grana che il parmigiano abbondante aggiungete il basilico e ricoprite con un'altra passata di pomodoro quindi trasferite in forno e cuocete a 180 gradi statico o ventilato per 20-25 minuti ed ecco i nostri involtini di melanzane ripieni di mozzarella pronti grazie per aver seguito anche questa videoricetta alla prossima ciao